Anche quest'anno siamo qui sotto alla chiesa dei frati Cappuccini di Poretta Terme a fare qualche modifica al nostro grande presepe, che è un presepe di 240 metri quadri. Come vedete ci sono alcune statue che si muovono e altre magari sono fisse per l'immagine un po' come rappresenta il nostro presepe, perché noi siamo tradizionali, noi facciamo il presepe sempre come dice la storia. Anche quest'anno qualche modifica abbiamo fatto, non più di tanto perché è un presepio che ormai ha già aggiunto il suo limite di spazio anche. Abbiamo il nostro capanna, il censimento dove la Madonna ha chiesto alloggio. E come vedete qui abbiamo la polentaia, il vasaio e dove nevica, che sarebbero le alture del Gola. Quello sull'albero rappresenta Zaccheo, quanto andete a scuriosare in alto per vedere dentro la casa dei signori e vi aspettiamo tutti quanti fino ad agosto siamo aperti, l'orario è dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 18 e poi dopo tutto sta alla vostra bontà di venirlo a vedere e numerosi, come gli anni passati, 8-9 mila persone che sono venute a vederlo.